Buongiorno a tutti dal Team McTrader. Questa mattina andiamo ad analizzare in tempo reale il grafico del titolo STM. È un titolo su cui noi siamo già in posizione, presente all'interno del nostro portafoglio premium da diverso periodo. Facciamo notare come il titolo abbia trovato un supporto in area a 28 euro. Lo ha toccato qui, qui e qui e abbia sempre visto il ritorno degli acquisti. Successivamente c'è stato un continuo saliscendi tipico di una fase laterale che poi è stata breccata definitivamente. Lo vediamo qui. La cosa che ha destato a noi un certo interesse è questo gap, con cui il titolo ha aperto ancora ad agosto. È andato a breccare la fase laterale. Successivamente dopo l'allungo c'è stato il classico pullback, ma attenzione perché su questa candela la spike del 19 agosto va a toccare esattamente, direi con precisione millimetrica, la fase del laterale. E qui sono tornati violentemente gli acquisti. Quindi il fatto che non si sia scesi nelle sedute successive a ricoprire questo gap che è ancora presente, ci ha fatto pensare che fosse il classico gap di inizio ciclo. Al momento l'avvio è confermata in quanto con un andamento piuttosto regolare. Il titolo sta salendo. Ieri ha breccato ancora una volta una piccola congestione. Sta allungando. Sembrerebbe che potrà allungare ancora ulteriormente magari in area 41-42 euro. Ed è un titolo di quelli che ci piacciono perché come vediamo è saldamente impostato al rialzo. Per oggi è tutto. Se il titolo vi piace seguitelo, seguitelo anche sul nostro canale ad accesso libero. Trovate il link in descrizione. E se vi è piaciuto questo video lasciate un like.